Sul tema casa bisogna capire che patrimonio immobiliare abbiamo, non penso che sia una rendita parassitaria perché nessuno ha vinto le case al superenalotto, per la tradizione culturale italiana dei nostri genitori e dei nostri nonni non si andava in vacanza per lasciare ai figli o ai nipoti quei 50 metri quadri perché se andavi altrove senza lasciare qualcosa di concreto e di tangibile che potevano essere i buoni del tesoro, i cct o l'appartamento evidentemente non eri stato un buon genitore, questo era, poi uno nel 2023 può sorridere, però il patrimonio immobiliare italiano è figlio di questo, io penso che il bene casa in Italia sia sufficientemente tassato, anzi abbondantemente tassato.